Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Oggi si è impiccato a Verona nelle prime ore della giornata Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di aver ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino in provincia di Verona. A riferire la notizia della morte, il segretario nazionale della Wilpa Polizia Penitenziaria. La scoperta del suicidio risale alle 5.30. Proprio oggi Impellizzeri sarebbe dovuto comparire per l'interrogatorio. Una coppia di giovani è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Caorle. Viaggiavano a bordo di una mini che in prossimità di una curva è uscita di strada. La macchina è andata completamente distrutta. I due ragazzi feriti sono rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo del veicolo. Sono stati liberati dai vigili del fuoco e soccorsi immediatamente dai sanitari del 118 che li hanno trasportati in codice rosso all'ospedale sul posto per i rilievi i carabinieri. Operazione zona rossa truffe durante il lockdown. Parliamo di una grossa e importante operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha smantellato un'associazione per delinquere che pare avere anche legami con Cosa Nostra. Sentiamo. Un'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova ha permesso di smantellare un complesso meccanismo di frode che ha provocato danni di rilevanti entità nei confronti di oltre 60 operatori economici dislocati sul territorio nazionale. Un'associazione per delinquere è entrata in azione nel periodo del lockdown. 13 persone indagate, 3 con misure cautelari in carcere. Nel dettaglio il sodalizio criminoso che vede coinvolti a vario titolo questi 13 soggetti di cui uno indagato per ricettazione e alcuni percettori del reddito di cittadinanza. Ne fanno parte anche numerose società nelle province di Bologna, Padova, Brescia, Milano, Modena, Novara e Varese. Approfittando anche della forte recessione economica dovuta all'emergenza Covid erano state individuate due strutture apparentemente in buona salute nelle zone industriali di Sant'Elena e Carmignano di Brenta nel Padovano. Erano basi logistiche dell'organizzazione. Insospettabili prestanome sono stati utilizzati nelle varie operazioni. Fondamentali per il traino? La collaborazione di due professionisti. Le procedure prevedevano l'alterazione dei dati di bilancio con prestanome insospettabili. Venivano rigenerate aziende di fatto inattive o decotte a solo scopo di renderle appetibili al mercato e di poter avviare collaborazioni commerciali per approvvigionarsi in maniera indiscriminata di significativi quantitativi di merce. Il danno al momento è stato quantificato in circa un milione e mezzo di euro. L'operazione, che è stata denominata Zona Rossa, pare avere anche legami con un clan di Cosa Nostra. Ed ora diamo uno sguardo ai numeri del Covid relativi al bollettino delle ultime 24 ore nel territorio regionale Veneto. Sono 181 i nuovi positivi registrati. Il numero che ovviamente bisogna tener conto è della fine settimana. Il bollettino regionale segna anche due nuove vittime. Dunque il totale dei morti in Veneto da inizio pandemia oggi tocca 11.760 morti. I positivi attuali in tutto il territorio regionale sono 11.345. Parlando dei ricoveri all'ospedale, nelle ultime 24 ore si evidenzia un leggero aumento. 253 i pazienti in area non critica. Sono 5 in più i nuovi ricoverati, mentre 55 si trovano in terapia intensiva, dove c'è stato un nuovo accesso. A Mestre, un uomo di 70 anni è morto a causa del Covid. L'uomo era già stato sottoposto alla doppia dose di vaccino e la causa dell'aggressività del virus viene giustificata con la mancata produzione degli anticorpi. Dubbi e interrogativi ai quali si può rispondere solo verificando la propria reazione attraverso un esame del sangue per capire la risposta soggettiva. Luca Morisi, ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, risulta indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. È quanto riportano i quotidiani oggi. Dopo una perquisizione nella sua abitazione in provincia di Verona sarebbero state trovate alcune dosi di droga. Morisi aveva lasciato l'incarico di capo della comunicazione social del leader della Lega alcuni giorni fa per questioni familiari. A Verona un lavoratore dell'Enel ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo era assalito su un traliccio per riparare un guasto alla linea elettrica. Sembra che sia stato colpito da una scarica e sia morto folgorato. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare per riuscire a salvarlo. Il tragico incidente dovrà comunque essere ricostruito. E sono tante le regole per la ripartenza adottando strategie di protezione contro il covid. Per molti però rimane una certa confusione tra quarantene che cambiano, regole certe e distanziamenti. Regole che cambiano, misure anti-covid e allentamenti che fanno percepire la strada verso la normalità. Ma sarà veramente così? Entro il 30 settembre dovrebbero arrivare nuove regole per teatri, cinema, stadi. Per regolare le quarantene a scuola e il lavoro in presenza negli uffici. In questo momento però regna ancora la confusione tra bozze e strategie reali. Ci si domanda anche se tutte queste misure saranno realmente utili o se stiamo rischiando. Per quanto riguarda le scuole, il sottosegretario alla salute Sileri ha dichiarato che il governo potrebbe decidere di cambiare il protocollo dedicato alla quarantena nel mese di ottobre. Dopo aver studiato gli effetti della riapertura delle scuole. Due le ipotesi sul tavolo accorciare la quarantena da 7 a 5 giorni o mettere in isolamento non tutta la classe ma solo chi si trova più vicino al contagiato, il suo compagno di banco o chi è seduto in un banco vicino. Per quanto riguarda il lavoro in presenza permangono i distanziamenti di un metro tra le persone ma potrebbero arrivare anche nuove linee. Il DPCM afferma che il rientro deve avvenire in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle misure anti-Covid. E sono state circa 4.000 le persone che hanno preso parte alla manifestazione contro il Green Pass a Padova durante questo fine settimana. I manifestanti si sono incontrati nel piazzale della stazione e poi hanno proseguito per il centro storico. Striscioni e slogan per far sentire le loro ragioni. In alcuni punti al passaggio del corteo si sono formati anche degli intasamenti ma non ci sarebbero state particolari criticità. Appare chiaro che non si tratta solo di proteste contro il certificato ma di un pensiero contrario al vaccino. Molti esprimono timori per le conseguenze derivanti dall'inoculazione delle dosi. Parliamo di Covid e montagna. Quest'anno si potrà andare a sciare finalmente e vivere le piste ma sentiamo quali saranno le novità. Che impatto avrà la pandemia sul comparto turistico montano? Come reagire? Che strategie usare per affrontare la stagione imminente? Dopo stagioni rovinate il comparto si sta preparando alla sfida per il nuovo inverno. Nei giorni scorsi è stato firmato a Milano il protocollo riapertura delle aree scistiche per l'utilizzo degli impianti di risalita. Sugli sci sarà obbligatorio il green pass. Bisognerà indossare la mascherina sugli impianti di risalita. La capienza sarà ridotta all'80% in funivia dove dovranno essere aperti anche i vetri per mantenere la giusta reazione. All'interno delle aree scistiche dovranno essere creati dei percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Dolore ad Adria dopo la notizia della morte di Mattia Panarella appena 17enne. Il ragazzo sabato sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale poco distante da casa. Mancavano quasi 100 metri. Era alla guida del suo scooter quando si è scontrato con un'automobile. L'autopsia sul corpo di Giacomo Sartori sembra confermare l'ipotesi del suicidio. Una tesi che però non convince ancora quanti conoscevano il ragazzo. Chi lo conosceva infatti trova impossibile un gesto simile da parte sua. Dunque i dubbi e gli interrogativi restano ancora molti. Giacomo della provincia di Belluno lavorava come informatico a Milano. La sera della sua scomparsa aveva subito il furto del PC. Il suo corpo dopo l'allarme per la scomparsa è stato trovato alcuni giorni dopo a Pavia in un'area nascosta. Le ricerche si erano concentrate in quell'area dopo il ritrovamento dell'automobile segnalata sul posto da un residente. Ci sarebbe anche una telecamera che avrebbe ripreso il giovane prima della tragedia. Pizzicato nell'alta Padovana un cittadino che di notte aveva abbandonato dei rifiuti lungo la strada. L'uomo sceso dalla sua auto ha gettato dei sacchi e si è dileguato senza mettere in conto che quella mossa veniva ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. In poco tempo gli agenti della locale lo hanno individuato e per lui sono scattate una serie di conseguenze come previsto dalla legge. Adesso parliamo di eventi ma anche di tradizioni. Allora andiamo con Emanuele e compagno sulla riviera del Brenta. E' stata vinta dalla squadra di Mira la sedicesima edizione del Palio del Ruzzante, la manifestazione che si svolge tutti gli anni in questo periodo grazie alla proloco di Fiasso d'Artico. Il Palio del Ruzzante che quest'anno si è tenuto ieri, domenica 26 settembre, è una gara che consiste nel traino di una grossa barca, un burcio, da parte di squadre formate da cinque tiranti lungo un tratto del Naviglio Brenta. La squadra vincitrice riceve un palio, cioè uno stendardo dipinto appositamente da un pittore. La gara è preceduta da un corteo storico rievocativo della vita sul Brenta e i tempi del Ruzzante. Ad essa partecipano squadre rappresentanti le diverse comunità brentane. Per secoli i tiranti hanno trainato con la sola forza delle braccia o con i cavalli le barche che univano Venezia e Padova. Ora, per rievocare il loro mondo, moderni atleti si affrontano trascinando dalla riva un grosso e pesantissimo battello. Il loro lavoro è ricordato, fra gli altri, da uno dei grandi figli della terra veneta, Angelo Beolco, più noto come Ruzzante, in nome del suo personaggio teatrale. Angelo Beolco, infatti, meglio noto come Ruzzante, è certamente il massimo scrittore veneto del Rinascimento e forse di tutta la letteratura della nostra regione. La sua attenzione è sempre rivolta alle vicende e alla vita dei contadini del popolo, il che lo porta a essere spesso in polemica con la cultura presunta alta del suo tempo. Il mondo di Ruzzante è per scelta abbastanza ristretto. Va dai Cogli Ugani a Venezia attraverso Padova, da Chioggia alla riviera del Brenta attraverso la Saccisica. Il naviglio, dunque, fa parte appieno di questo mondo, pur segnandone in qualche modo il confine. Caratteristico in Ruzzante è l'uso, per quasi la totalità dell'opera, del dialetto, idioma naturale contrapposto al fiorentinesco, artificiosa costruzione dei letterati. Questa scelta lo fa essere uno dei padri culturali dell'identità veneta. Di Tiranti, Ruzzante parla in almeno due luoghi della sua opera. Una pagina del Bilora, in cui il protagonista dichiara appunto di aver fatto il tirante, e una scena della Betia, che presenta a questo lavoro come particolarmente pesante, tanto che viene combinato come sanzione, in questo caso a donne di facili costumi. In naviglio fu tra i primi corsi d'acqua al mondo ad essere dotato di chiuse, che permettevano di superare agevolmente i dislivelli e di richiedere un traino abbastanza leggero, anche per barche ingombranti. In genere, a partire dal Cinquecento, troviamo che burci e burchielli sono trainati da un solo cavallo. In questo caso, specie in discesa, basta un uomo. Il palio è stato disputato per la prima volta nel 2005, con l'obiettivo di far conoscere i valori ambientali, storici, architettonici e culturali della rivela del Brenta. E adesso è arrivato il momento con angoli da scoprire in Veneto. Le nostre telecamere sono salite a bordo di un velivolo, sempre in compagnia di Emanuele Compagno, che ci ha portato a sorvolare il Polesine. Guardate. Eccoci qua, ci troviamo nuovamente a bordo di questo aereo per telecittà. Andremo a vedere dei paesaggi molto importanti ed interessanti del nostro Veneto per angoli da scoprire in Veneto, per telecittà. Siamo saliti a bordo di questo aereo perché dall'alto abbiamo la possibilità di renderci conto meglio della bellezza del territorio del Polesine, ovvero l'area che coincide con la provincia di Rovigo, situata tra il basso corso dei fiumi Adige e Po, fino al mare Adriatico. Si tratta di un'area che è stata bonificata molti anni fa e che oggi presenta dei tratti naturali di straordinaria bellezza. Non soltanto le foci del Po, che abbiamo già sorvolato poche settimane fa, ma anche l'area incontaminata del Bosco della Misola, che è rimasta tale e quale, così com'era, l'area della pianura padana in epoche ancestrali. Noi di telecittà avevamo sorvolato proprio anche l'area del Bosco della Misola. Il nome Polesine deriva dalla terra paludosa, ovvero da Pollicium. In una mappa del Ducato di Ferrara del 1597, viene definito anche Polesino. L'area è attraversata da molti corsi d'acqua, oltre al Po e all'Adige anche il Tartaro Canal Bianco. Ampie zone del delta sono poste sotto il livello del mare e questo a causa del fenomeno della subsidenza dovuto alle estrazioni metanifere degli anni 50 e 60. Gran parte dell'opera di bonifica è stata realizzata dalla Repubblica di Venezia. È un'area abitata dai Veneti e dagli Etruschi. Già è il VI secolo e il IV secolo a.C., che vide nella città di Adria il centro più importante del commercio e delle istituzioni, tanto da dare il nome al mare Adriatico. Molti sono i ritrovamenti etruschi in zona, tanto che ad Adria vi è un meraviglioso museo etrusco. Il Polesine è stato oggetto di numerosi alluvioni. Il 17 ottobre del 589, la rotta della Cuccia colpì i corsi dell'Adige e del Mincio. Nel 950, la rotta del Pinzone colpì ancora Adige e Tartaro. Ci troviamo a bordo di questo aereo che sta sorvolando le campagne della provincia di Rovigo assieme al fiume Po. Nel 1152, la rotta di Ficarolo sconvolse il Po. Nel 1438, la rotta della Malopera, dovuta ad una battaglia militare, schiarì le acque del Tartaro al punto che, da 300 in poi, fu chiamato Canal Bianco. Altre alluvioni ci furono nel 1882, fino a quella devastante del 1951, con 100 morti e 180.000 senza tetto. Ancora nel 1966, una piena del fiume Po si combinò con il vento di Scirocco, impedendo il defluire delle acque in mare, con la rottura degli argini del basso Polesine. Ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche previste sul Veneto per la giornata di domani. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con un aumento della nuvolosità alta nella seconda parte di giornata. Fino alla mattina, foschie e locali nebbia in pianura e nelle valli prealpine. È tutto per questa edizione con le ultime notizie dal Veneto. Tra poco, lo spazio dedicato alle notizie nazionali è a cura di Talpress 24. Vi saluto ringraziandovi per l'attenzione e ricordandovi di scaricare sul vostro smartphone l'app Telecittà, con la quale potete vedere in streaming la nostra emittente televisiva e avere accesso a tutta l'informazione. Ancora buon proseguimento. Ancora buon proseguimento.